Ciao a tutti e benvenuti Oggi vediamo come creare un backup cioè una copia dei nostri documenti, foto e quant'altro abbiamo caricato su Facebook Successivamente vedremo come cancellarsi o mettere in paso l'account Eseguiamo questa operazione da PC usando un browser l'intenzione è di creare una copia salvata sul proprio hard disk Per prima cosa accediamo a Facebook dal browser e clicchiamo in alto a destra dove vedete un triangolino rovesciato Successivamente impostazioni e privacy e poi impostazioni A sinistra VL, tue informazioni su Facebook Il prossimo passo è a destra scarica le informazioni dove c'è visualizza in blu Lasciamo tutti i miei dati HTML Qualità dei contenuti alta A questo punto possiamo decidere cosa scaricare Se lasciamo tutto spuntato scaricheremo tutto Viceversa Se ci interessa solo una casella specifica selezioniamola Si possono scaricare foto e video commenti, post, eccetera Nella sezione informazioni su di te possiamo vedere la maggior parte delle informazioni che sono state inviate ad aziende e inserzionisti vari con il nostro consenso specifico accessi alla posizione e quant'altro Fatto questo clicchiamo su crea file Per creare il file in base alla grandezza ci vuole da qualche ora a giorni Al fianco di e-credi copia c'è copie disponibili che è appunto il posto dove potremo scaricare una volta pronte la copia dei nostri file quando sarà pronta A questo punto clicchiamo su copie disponibili e poi il pulsante scarica oppure scarica di nuovo se l'abbiamo già scaricato Una volta terminato di scaricare le informazioni torniamo su le tue informazioni su Facebook e poi disattivazione ed eliminazione Nel pulsante visualizza qui si può scegliere tra l'eliminazione dell'account oppure la disattivazione temporanea La disattivazione temporanea si può utilizzare per continuare a utilizzare Messenger Una volta selezionata la nostra scelta si continua in basso a destra dove c'è Continua per disattivare account oppure per eliminare account Con questo abbiamo finito Vi saluto e a presto Ciao